Poteva finire in tragedia con un omicidio, una discussione tra parenti, poi sempre più accesa, sino a trasformarsi in furibondo elite familiare fra suocero e genero, che all'improvviso è degenerata. Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri, martedì 26 luglio, attorno alle 23 a Dormelletto, in località Tre Ponti, al confine con il comune di Arona. Il ferito, con squarci d'arma da taglio al torace, è stato trasportato in auto dal cognato, nella sede della Croce Rossa di via General Chinotto. Il 43enne è stato condotto da un'ambulanza del 118 in codice rosso Aldea pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni destano più preoccupazioni, ma quanto si è appreso da qualche ora non è più considerato in pericolo di vita. Su quanto è successo indagano i carabinieri del nucleo operativo radio mobile della compagnia di Arona. L'anziano e il genero si sono incontrati lungo la statale 33 del Sempione in via Camillo Benso Conte di Cavour. Stando ai primi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, si erano dati appuntamento con l'obiettivo di chiarirsi riguardo alcune tematiche che li avevano già visti contropposte anche in passato. La discussione ha ben presto assunto toni molto accesi, sino al drammatico epilogo. Il suo occio una notte è stato sentito dai militari e tratto in arresto. Alla base del fatto, secondo le prime dichiarazioni della coltellatore, ci sarebbero azioni di maltrattamento del genero nei confronti della moglie, figlia del settantenne, questi accusato ed arrestato per tentato omicidio.